Il CD contiene due brani tratti dalle armonie poetiche religieuses. Il primo brano, il primo brano, il brano di apertura di questa straordinaria collezione di composizioni sacre è Invocation. Quello che mi aveva già affascinato ancora prima dell'incisione del primo CD è l'intensità che emana ciascuna sua composizione. Perché? Perché non si può non pensare, quando si suona l'ist, alla sua vita, alla sua complessità, alla sua cultura, al suo amore per le arti figurative, al suo amore per l'Italia e in particolare per il lago di Como. La sua vita così complessa, ma tanto spirituale, sempre accompagnata da una ricerca di spiritualità che poi, come sappiamo, l'ha portato a prendere i voti. È una vita anche nella quale l'ist ha avuto la straordinaria capacità di utilizzare la musica, il pianoforte, per rendere onore alla natura. Ecco perché ho pensato di scegliere per questo CD dei brani che sono strettamente legati alla natura e strettamente legati alla spiritualità. Il CD infatti contiene due brani molto significativi delle armonie poetiche e religiose, Invocation e Funiarelle, che sono un ciclo di composizioni altamente spirituali, anunie poetiche e religieuse. Il CD infatti contiene due brani che sono un ciclo di composizioni altamente spirituale, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.